alicia keys ha una data d'uscita per il nuovo album il 18 settembre uscirà il nuovo album di alicia keys con il titolo alicia l'album in studio doveva essere pubblicato lo scorso 20 marzo cosa non avvenuta causa pandemia la track list non è ancora stata annunciata ma includerà alcuni singoli precedenti come time machine e underdog anche per le date del tour bisogna aspettare ancora un po nel frattempo la cantante ha anticipato l'uscita dell'album con tour e un nuovo singolo love looks better